Buonasera a tutti, questa sera pubblicherò invece la canzone di Claudio Baglioni, Poster, una bellissima canzone come voi già sapete, immaginate, che lui pubblicò sempre negli anni 70, ai fini anni 70, parlando di una situazione che si poteva verificare, o si è verificata lui stesso, in una stazione appunto del metro, dove si aspetta appunto il Trump, quando i pensieri sfociano a destra e a sinistra, e lui ha interpretato e ha materializzato questi suoi pensieri, appunto, cantando questa bellissima canzone. Eccola qua, ora io sto per interpretarvela, speriamo vi piaccia. Poster, Claudio Baglioni. Seduto con la mano sopra la panchina fredda del metro, sei lì che aspetti quello delle 7.30 chiuso dentro il tuo appartò, un pizio legge attento l'istruzione del distributore del caffè, ed un bambino che si tuffa dentro ad un bignè. E' l'orologio contro il muro, segnalo le 10 da due anni qua, il nome di questa stazione, mezzo cancellato dall'umidità, un poster che qualcuno ha già scarabocchiato, dice che è l'inconesia, c'è un mare di velluto ed una palma, e tu che sogni di fuggire via. Andare lontano, 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 andare lontano. Lontano, lontano, lontano. E da un mare ad un lino accesa arrivano le note di un'orchestra jazz, un vecchio con gli occhiali spesso un dito cerca la risoluzione a quelli, due donne che gli stanno ballando con le braccia pieni di succhetti del vino, ed un giornale aperto sulla pagina dei figli. E sui binari quanta vita che è passata e quanta che ne passerà, e i tuoi ragazzi stretti stretti che si fanno promessi per l'eternità. Un uomo si lamenta ad alta voce del governo e della polizia, e tu che intanto sogni ancora sorghi sempre sogni di fuggire via. e andare lontano, 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 e andare lontano, lontano. lontano, 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 lontano. Miamono, lontano e lontano, lontano. E per avervi voluto a giocare uno ore quanto facciop aquilo nelle sette tente chiusa dietro il tuo cuore, e sito ora in una panchina fredda del metro. Eccola qua spero vi sia piaciuta una canzone, che dire, formidabile di Gato Abaglioni poster quindi iscrivetevi in tanti se vi piace il canale visualizzate in tanti tanti like e un abbraccio grande da me Eugenio Emanuele ciao